E' andato benissimo, clima positivo, sereno, disteso e si sono decise molte cose, tra le quali ovviamente il governo darà un mandato a una realtà istituzionale per fare poi tutto un piano economico-finanziario che vada a validare l'affare Olimpiadi, che si dimostri appunto il maggior gettito fiscale e tutto quello che poi saranno le ricadute nell'economia. Le previsioni sull'indotto? Assolutamente, tutto quello che sono i vantaggi diretti e indiretti nell'ospitare un evento e quindi le Olimpiadi Invernali 2026. Ma che sarà preparato questo? Questo non lo posso dire, ma a breve anche perché è una delle basi fondanti rispetto a quello che stiamo facendo. Tutte le garanzie economiche che voi avete presentato al CIO, la garanzia è stata data dalle regioni e dalle città, da parte del governo c'è stata un'apertura su un eventuale contributo? Guardi, questa strada la facciamo assieme, il governo non ci ha mai abbandonato sulla partita delle Olimpiadi, penso che oggi sia ancora più chiaro che il governo tiene quanto a noi al fatto che queste Olimpiadi si possano celebrare in Italia e quindi a Milano e a Cortina. Dall'altro c'è anche da dire che sul fronte alle garanzie per ora ci sono le regioni, però è pur vero che davanti, immagino, davanti a uno studio approfondito e terzo di una realtà istituzionale che poi c'è una grande università o chi altri, si riuscirà anche a dimostrare che ci saranno dei vantaggi diretti e indiretti e ci sarà anche un extragettito fiscale che va tutto a Roma poi alla fine, a meno che non ci diano l'autonomia. Quali saranno le prossime tappe con il CIO? Noi abbiamo delle tappe ben scadenzate che sono quelle delle ulteriori lettere da inviare, è fondamentale partire a ritroso a giugno, immagino che sia verso fine giugno, il 24 se non ricordo male ci sarà a Lausanna la decisione finale. Nel frattempo avremo a maggio un'ulteriore convention a Brisbane in Australia per incontrare ancora i membri a livello internazionale e dopodiché roadshow, promozione e soprattutto lavorare pancia a terra come diciamo noi. Non ti spaventa Stoccolma? Ma Stoccolma ci spaventa, ci spaventano tutti, è come ne avessimo mille di avversari, non uno solo. È sbagliato sottovalutare la forza del competitor, in questo caso ne abbiamo uno solo. Ci fa piacere notare che Stoccolma sta scegliendo o ha scelto di non chiamarsi più Stoccolma ma Stoccolma Ore, è come scrive Milano Cortina, vuol dire che noi siamo sulla strada giusta, cioè valorizziamo la metropoli Milano, loro valorizzano la metropoli Stoccolma e poi l'hub scistico nel nostro caso è Cortina che è uno degli hub più grandi a livello internazionale. Grazie ragazzi.